La Costituzione è intoccabile, come dicono i rodotai di Zagrebeschi, oppure non c'è nulla di male a modernare una cosa che ha parecchi decenni di vite? In quel mondo c'è un po' di confusione, devo dire, e si è detta qualche bugia, visto che parliamo della menzogna. Posso partire dalle bugie? Assolutamente. Allora, il governo ha presentato una legge che modifica l'articolo 138 della Costituzione. L'articolo 138 dice questo, che la Costituzione si modifica attraverso un procedimento particolare per cui se nella seconda votazione si vota due volte tanto la Camera quanto il Senato la riforma, la riforma non riceve i due terzi dei consensi, si può procedere al referendum. Questa maggioranza di governo ha più dei due terzi tanto la Camera quanto il Senato e quindi si è deciso di fare una legge che stabiliva che in ogni caso la riforma sarebbe stata sottoposta al referendum per evitare che la maggioranza di governo coincidesse con la maggioranza costituente. non so se è chiaro. È una forma di tutela dei cittadini questa per evitare. Ecco, sparano contro questa riforma. Non ho capito perché. E non dicendo la verità, mi dispiace anche perché sono persone che stimo, che ammiro, che hanno dato moltissimo al progresso del diritto nel nostro Paese. Seconda questione, la riforma non sarà esaminata dalle commissioni permanenti ma da un comitato speciale di 40 persone. Per quale motivo? perché siccome il Parlamento è fatto sulla base del premio di maggioranza, la rappresentanza è falsata. Noi per esempio, il PD, con il 26% di voti, ha poco meno di 300 reputati. Cioè ha triplicato grazie alla legge Calderori eccetera. A volte gli strumenti si ritorcono contro chi li fa, come è noto in politica. E allora la legge cosa dice? Diciamo a turno ci hanno inzuppato tutto il biscottino. Cosa dice questa legge? Che questa commissione dei 40 va fatta depurando la rappresentanza dal premio di maggioranza. Quindi facendo rendere effettivo il voto dei cittadini, la scelta, non con la protesi del premio di maggioranza. Mi pare che non ci sia nulla di più democratico che vicino ai cittadini. Perché attaccare questo articolo? Allora, ci sono detti alcune bugie. Tu ti sei dato risposta del perché? Ma perché guardi, c'è un uso politico della Costituzione. Nel senso che siccome legittimamente queste persone, molte le quali sono amiche, persone che io stimo, sono contrae a questo governo, tutto è legittimo, stanno usando un argomento costituzionale per attaccare il governo. Ma questo si chiama, c'era un insegnatore loro, uso politico della Costituzione che è sbagliato.